Un cordiale buonasera e benvenuti come sempre al telegiornale di Media24. Putin si ha ormai abituato a immagini surreali, tipiche di un uomo solo al comando, che dispone personalmente i modi e i tempi di ogni sua iniziativa. Il tavolo bianco ai cui lati opposti sedevano lui e Macron, il presidente francese, quasi a significare anche fisicamente la distanza che separa la Russia dall'Europa. L'umiliazione in pubblico del capo del controspionaggio, Reovi, avrà solo larvatamente espresso un dubbio sui piani predisposti per l'invasione dell'Ucraina. L'ordine è dato davanti agli obiettivi delle telecamere e ai suoi generali di allertare il sistema missilistico nucleare e dulcis in fundo l'incontro con le hostess dell'aeroflot, ora a terra per la chiusura degli aeroporti internazionali ai voli russi, attorno ad un tavolo aggrindato di mimose, per lanciare nuovi strali minacciosi contro l'Europa, l'Occidente, gli americani e via discorrendo. Il clima surreale di quell'incontro, lui circondato da una ventina di donne che lo guardavano smarrite, intimorite ed una di queste che con un tono quasi balbettante gli chiedeva il perché di quel che era successo, forse dicendo a se stessa, mentre lui prendeva appunti se quella domanda le avrebbe aperto, le porte della galera. La legge è approvata dalla Duma, il Parlamento russo che prevede 15 anni di carcere per chiunque esprima opinioni dissonanti dalla politica di Putin o riferisca notizie sulla guerra che non siano gradite ai vertici del Cremlino o che scenda in piazza per esprimere il proprio dissenso, confermano una volta di più che ci troviamo di fronte ad un dittatore che reprime ogni libertà e costringe un intero popolo, un grande popolo, quello russo, a prospettive disastrose. Il rublo è crollato, il sistema economico che ruota attorno a un potere oligarchico che concentra nelle mani di pochi uomini la stragrande parte della ricchezza del paese è stato di fatto compromesso dalle sanzioni economiche, mentre la maggioranza dei cittadini russi vive condizioni di modesto benessere se non di diffusa povertà. Vladimir Putin è consapevole che con questa partita si sta giocando tutto, perché non c'è solo il fronte ucraino da affrontare, ma anche quello interno, forse più pericoloso e insidioso se solo i piani di guerra non dovessero raggiungere i risultati nei tempi e nei modi previsti. E comunque, qualsiasi sarà l'esito di questa orribile pagina della nostra storia recente, alla fine resteranno solo le macerie, con buona pace di chi pensa che le guerre risolvano i problemi. Le guerre non possono che peggiorarli ulteriormente. E veniamo alle notizie di casa nostra. L'ospedale di Jesolo, attualmente ancora in assetto Covid, sta tornando alla normalità da oggi. Il punto prelievi verrà trasferito all'interno dell'ospedale e contestualmente verranno riattivate una serie di attività ambulatoriali. Lo annuncia il direttore generale dell'USA4 del Veneto orientale, Mauro Filippi. Il punto prelievi di Jesolo non sarà più collocato all'interno del poliambulatorio, ma sarà operativo nel blocco ospedaliero con orario invariato. Sempre da oggi al poliambulatorio ospedaliero di Jesolo verranno riattivati gli ambulatori di dermatologia, ortopedia, neurologia e otorino la ringoiatria, a cui seguirà la settimana successiva l'attivazione dell'ambulatorio di chirurgia. E l'emergenza sanitaria dovuta al Covid ha accelerato la diffusione delle tecnologie digitali in ogni ambito sociale e in particolare in quello scolastico. Questa nuova condizione determina un crescente bisogno di supporti formativi per cogliere tutte le opportunità di un apprendimento arricchito dal digitale. E la sesta edizione della Rassegna Scuola e Genitori Connessi a Pordenone vuole sostenere la cosiddetta cittadinanza digitale, soprattutto nell'ambito della formazione rivolta ai docenti della scuola dell'infanzia e delle classi prima e terza della scuola primaria. Vediamo il servizio. La nuova edizione della Rassegna Genitori Connessi quest'anno si rivolge in particolare agli insegnanti per creare scenari di apprendimento arricchiti dal digitale e aperti al territorio. Le modalità ce le illustra uno dei curatori, il professor Stefano Morigi dell'Università Bicocca di Milano. La scuola ai Genitori Connessi è un progetto che si innesta nella tradizione di Genitori Connessi, un progetto di cittadinanza digitale che quest'anno affronterà l'inedito contesto dei musei che lavoreranno con le scuole e le scuole con i musei. L'obiettivo è quello di sviluppare e condividere metodologie didattiche che consentiranno ai docenti e ai loro studenti di partecipare della vita dei musei e di estendere la scuola sul territorio. Questo comporterà un lavoro di gruppo, un lavoro partecipato, consentirà di lavorare su competenze cognitive e non cognitive, consentirà di costruire un gruppo di cittadinanza che appunto è sempre stato uno degli obiettivi di Genitori Connessi. Chiediamo all'assessore alla cultura Alberto Parigi qual è il valore e la funzione che l'amministrazione comunale attribuisce a questa rassegna. Quest'edizione di Genitori Connessi incontra il favore del Comune in modo particolare. Noi lo affianchiamo fin dai primi anni ma questa edizione è particolare perché? Perché coinvolge i musei cittadini e perché è importante? Uno, perché è importante fare formazione e informazione sulla didattica digitale, lo abbiamo visto con la pandemia. Due, perché i musei diventano luoghi vivi, aperti alla città e diventa un nuovo modo di vivere i musei. Tre, perché la didattica digitale consente di valorizzarli e ne consente una nuova fruizione, specie nei confronti dei giovani con un linguaggio a loro adatto. Insomma si attua quella politica di unione tra cultura, giovani e città che il Comune e in particolare l'assessorato alla cultura e alle politiche giovanili vuole perseguire. Genitori Connessi è supportata dalla BCC Pordenonese Monsile e promossa da Rotary Club Alto Livenza. Le ragioni ce le spiega il Presidente Giorgio Amadio. Perché i genitori connessi? Perché il Covid ha dimostrato come la tecnologia, la didattica a distanza, ha evidenziato dei limiti e pertanto abbiamo bisogno di incrementare questa possibilità per i ragazzi di accedere a questi strumenti che gli possono aprire sicuramente porte e nuove opportunità di crescita. Sono ben 600 attualmente i donatori attivi nelle sezioni Avis di San Michele a Tagliamento e Bibione. Ogni anno vengono raccolte mille sacche. Rispetto al 2016 si registra un incremento delle donazioni del 70% e ogni anno 70 nuovi donatori. Inoltre annualmente un centinaio di persone in più vengono a verificare l'idoneità per le donazioni. Nel rapporto abitanti-donatori San Michele a Tagliamento evidenzia ottimi risultati che sono tra i migliori della provincia di Venezia. Questi numeri sono stati presentati in Sala Consigliare San Michele a Tagliamento nel corso di una cerimonia con il Sindaco Flavio Maurutto, la Giunta e il Consiglio, oltre ai Presidenti Avis della sezione del capoluogo Matteo Palamin e di quella di Bibione, Ervino Drigo e i volontari. Sono stati consegnati in Comune a Gorizia la presenza del Sindaco Rodolfo Ziberna e dell'Assessore alle politiche sociali sanitarie Silvana Romano i fondi raccolti dai dipendenti comunali di Gorizia all'azienda speciale farmaceutica. L'iniziativa promossa dal gruppo sportivo ricreativo che riunisce il personale in servizio in piazza municipio e nelle altre sedi municipali è scattata con l'inaspirsi del conflitto ucraino, manifestando la volontà dei dipendenti del Comune di Gorizia di partecipare alle iniziative di solidarietà. Complessivamente è stata raccolta in una sola giornata la cifra di 1.000 euro. La somma è stata consegnata a nome del gruppo dipendenti da Annalisa Contino e Fabiano Marega al Presidente e al Direttore delle farmacie comunali Francesco Isoldi e Stefano Clarizio, che la utilizzeranno per acquistare principalmente materiale per medicazioni. Grazie a un importo così elevato è possibile prevedere l'acquisto anche di due barelle e diversi deflussori per flebo, oltre a garze, vendaggi, tubolari e siringhe. E le sigle sindacali SLAI-COBAS per il sindacato di classe, CUB, SICOBAS, USB e altre hanno proclamato per la giornata di domani, martedì 8 marzo, uno sciopero di tutte le categorie e settori lavorativi pubblici e privati. A riguardo il Comune di Gorizia comunica che verranno garantiti i seguenti servizi essenziali, lo stato civile, l'accoglimento delle registrazioni di nascita e morte, i servizi cimiteriali relativamente agli aspetti amministrativi, relativi agli stessi servizi, i servizi assistenziali sociali. Verranno inoltre garantite l'attività di pronto intervento sulla rete stradale, il servizio cantieri, limitatamente alla custodia e alla sorveglianza degli impianti, il pronto intervento della Polizia Municipale e il servizio di protezione civile. Infine, informazioni riguardanti l'apertura o la chiusura dei servizi educativi, cioè scuole materne e asili nido comunali, potranno essere reperite direttamente nelle singole strutture. E oggi si è riunito il Consiglio Comunale di Portogruaro con all'ordine del giorno la guerra in Ucraina. Come noto, nei giorni scorsi i gruppi di maggioranza avevano presentato un ordine del giorno con il quale si esprimeva piena solidarietà al popolo ucraino e si sollecitava una soluzione negoziata della crisi. Il Presidente del Consiglio Comunale di Pordenone, Pietro Tropeano, ha convocato il Consiglio per oggi in videoconferenza e in apertura dei lavori la seduta sarà dedicata alla mozione di solidarietà al popolo ucraino, sottoscritta da tutti i gruppi consigliari, seguiranno le comunicazioni del Sindaco e la discussione di una serie di mozioni e interrogazioni. E da oggi e fino al 29 aprile 2022 sarà possibile presentare le domande di contributo da parte di inquilini residenti nel Comune di Udine che a causa dell'emergenza Covid non possono far fronte al pagamento dei canoni di locazione o degli oneri accessori riferiti all'anno in corso. Non si tratta quindi del Fondo Affitti 2022 che invece inizierà a fine marzo, ma di un contributo straordinario che riguarderà l'anno in corso e che richiede requisiti diversi. Il contributo viene erogato in base alla graduatoria in ordine di ISEE, crescente e fino alla concorrenza del fondo disponibile. Il bando è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Udine nelle notizie della home page. E la settimana scorsa a Pordenone, in Piazza Cavour, nell'ambito della campagna della Polizia di Stato contro la violenza di genere, questo non è amore, è stato allestito in collaborazione con l'Associazione Voce Donna Centro Antiviolenza di Pordenone, un punto informativo con la presenza di personale della divisione di Polizia Anticrimine della Questura di Pordenone. L'iniziativa che si inserisce tra quelle promosse dalla Polizia di Stato in occasione dell'8 marzo, giornata internazionale dei diritti della donna, ha il fine di fare rete per potenziare l'azione di prevenzione della Polizia di Stato che, oltre a rispondere alle richieste di soccorso e ad occuparsi dei reati, offre un servizio di informazione, di sensibilizzazione e aiuto sui temi del contrasto alla violenza di genere. E vacanze di carnevale sulla neve per il gruppo agonistico Aix della Gymnasium Nuoto, che ha svolto un periodo di preparazione presso l'impianto di piani di Luzza gestito da Bella Italia. Novanti i ragazzi che hanno aderito al programma di allenamento, tutti atleti cresciuti nella scuola nuoto di Pordenone, Aviano e Motta di Rivenza, ragazzi che seguono un programma agonistico di nuoto e nuoto sincronizzato e che sono seguiti dagli allenatori Manuel Santarossa, Donatello Ruggero, Deborah Lisetto, Davide D'Amico e Enrico Greatti. In questo gruppo c'erano anche i ragazzi dello special team allenati da Claudio De Iuri ed Enrica Marzano, integrati perfettamente in squadra, con la quale avranno occasione di condividere altre importanti esperienze. E con questa ultima notizia io vi ringrazio cari amici di Media24 per la vostra attenzione e la vostra amicizia e come sempre vi auguro un in alto i cuori. Grazie. Grazie.